ciao ragazzi oggi in questo video ti parlerò di una cosa veramente veramente interessante come sai dal 2009 ci occupiamo di supportare privati ed aziende contro i soprusi dei gestori di telefonia e di energia su tutto il territorio nazionale abbiamo creato due pagine che puoi trovare qui sotto nel link in descrizione dove riportano tutte le pack dei gestori telefonici esistenti in italia e di tantissimi gestori energetici attualmente presenti sul territorio italiano ora non molti sanno che in italia ci sono oltre 850 aziende che rivendono energia e gas e quindi era veramente complicato andare a creare una pagina che contenesse tutti tutti i fornitori attualmente esistenti anche perché ci sono molte società che rivendono energia e gas che oggi sono aperte e domani possono essere chiuse per questo oggi in questo video ti farò vedere come localizzare qualunque pack di qualunque compagnia di luce o gas o anche di gestori telefonici minori esistenti in italia ma anche di altre società con le quali stai avendo una problematica e non stai riuscendo sul web in nessun modo a trovare la loro pack potrebbe essere anche un'azienda di noleggio macchine potrebbe essere una finanziaria potrebbe essere una società che si occupa di gestire la spazzatura nel tuo comune o qualunque altra società attiva in italia del quale non riesci a trovare l'indirizzo pack ti mostrerò il sito gratuito che esiste in italia a disposizione di tutti dove basterà inserire la partita iva di questa azienda e troverai la loro pack a cui potrai fare reclamo nel caso in cui la società non ti risponda nei settori pertinenti di nostra competenza quindi telefonia internet luce gas sky o mediaset premium non ti rispondesse non sei soddisfatto di quello che loro ti hanno dato come indinizio economico rimborso quant'altro o anche nel caso in cui non continuassero a risponderti alla tua pack che gli hai fatto ci puoi contattare e ti aiuteremo ti possiamo aiutare anche a inoltrare un reclamo a mezzo pack nel caso in cui tu non avessi una pack personale ti possiamo aiutare in due modi il primo modo è puoi trovare un link sempre nella descrizione qui sotto dove ti permette di aprire una pack velocissima nel giro di 5 minuti e poi averla subito nel caso in cui non vuoi aprire una pack perché comunque sia non ne hai bisogno ti possiamo supportare con soli 10 euro a fare un reclamo a nome tuo alla compagnia in questione e darti pieno supporto ok adesso ti mostrerò come andare a trovare qualunque pack di qualunque compagnia esistente in italia ecco qui ora come detto prima ti farò vedere come andare a recuperare qualunque indirizzo pack di una qualunque società italiana come ti accennavo abbiamo due pagine molto molto complete una riguardante le pack dei gestori luce gas la trovi su broker per l'energia punto it e abbiamo inserito al suo interno la maggior parte delle pack delle compagnie luce gas come dicevo prima non ci sono tutte in quanto ci sono circa 850 aziende in italia che rivendono energia elettrica o gas quindi sarebbe stato veramente difficile inserire tutte tutte le pack abbiamo anche un'altra pagina su broker per la telefonia punto it dove abbiamo inserito le pack di tutti i principali gestori di telefonia in italia anche qui se hai un gestore che non è largamente conosciuto ce ne sono tantissimi anche in questo caso ti farò vedere come andare a localizzare la pack di questo gestore dove magari non si è riuscito a trovare la pack online ho preso spunto da questo perché recentemente un nostro follower ci ha fatto un commento sulla pagina delle pack delle compagnie luce gas scrivendoci che non trovava la pack di pulse che tra l'altro nemmeno io avevo mai sentito parlare onestamente ma ce ne sono così tante nascono e muoiono così velocemente che è difficile veramente conoscere tutte tutte le compagnie al che mi sono recato su internet e ho cercato ho digitato pack ma non trovavo niente sono andato sul loro sito lo faremo insieme questa operazione e sono andato alla fine per andare a vedere se c'era qualcosa anche nei termini legali eccetera ma non ho trovato assolutamente niente online riguardo a la pack di questa compagnia al che cos'è che ho fatto ho utilizzato questo indirizzo che hanno indirizzo del ministero dello sviluppo economico quindi un sito assolutamente ufficiale dove si possono localizzare le pack di qualunque azienda quindi che cosa ho fatto questa è la cosa che puoi fare ovviamente anche tu se vuoi trovare un indirizzo pack ho selezionato la partita iva dell'azienda ho flegato qui su imprese ho messo qui il codice fiscale perché per un'azienda normalmente considerata poi alla fine la partita iva flegato non sono un robot cerca pack dell'impresa e ho trovato la pack perché se tu vedi praticamente qua ti dice che pulse è un marchio di expo italia infatti coincide perché la pack di questa azienda pulse è segreteria che ho c'è la pack expo italia punto biz va bene e quindi ho fornito al questo nostro follower le informazioni dandogli la pack quindi se stai cercando una pack di una qualunque azienda italiana quindi non fare altro che utilizzare questo sito inserire qua sotto la parte imprese il codice fiscale che sarebbe la partita iva e in questo modo andrai a localizzare qualunque pack esistente in italia di qualunque azienda bene ragazzi spero che questo video ti sia stato utile che ti abbia aiutato magari a localizzare una pack di un gestore che non stavi riuscendo a trovare come hai visto nell'esempio poc'anzi se questo video ti è piaciuto o se hai bisogno di altro scrivilo qui nei commenti metti un like a video e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per ricevere un sacco di informazioni gratuite nei settori di telefonia internet luce gas e anche tutte le migliori offerte del momento ti daremo veramente un sacco di consigli contro le truffe telefoniche contro i call center aggressivi e tantissime altre cose grazie per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video